Omega Simaster Railmaster, espressione di resistenza e stile. Tra i tanti capolavori dell'arte orologera, il modello Simaster Railmaster si distingue come un'icona di resistenza e stile senza tempo. Questo straordinario orologio da polso incarna l'equilibrio perfetto tra funzionalità tecnica e design elegante. Il modello Simaster Railmaster affonda le sue radici in un passato di esigenze specifiche. Inizialmente concepito per rispondere alle richieste di coloro che lavoravano in prossimità di campi magnetici, questo orologio è diventato un simbolo di resistenza e funzionalità. Una delle caratteristiche chiave del modello Simaster Railmaster è il suo design discreto e funzionale. La cassa, spesso realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, riflette l'approccio minimalista all'eleganza. Il quadrante, con lancette e indici luminescenti, garantisce una leggibilità ottimale in ogni situazione. Come complicazione si può visualizzare sul quadrante del Simaster Railmaster il cronografo su due subquadranti. Questo modello presenta anche il contatore dei piccoli secondi a ore 6 o ore 9. Il design del modello Simaster Railmaster è stato appositamente studiato per resistere alle sfide dell'ambiente quotidiano, mantenendo allo stesso tempo uno stile senza tempo. La sua resistenza alle interferenze magnetiche e alla pressione testimonia l'attenzione al dettaglio nella progettazione. Oltre al suo design sobrio, il modello Simaster Railmaster offre tecnologia di avanguardia e precisione orologera. Spesso dotato di movimenti meccanici di alta qualità, questo orologio garantisce una misurazione precisa del tempo in ogni situazione. La sua combinazione di stile discreto e tecnologia all'avanguardia lo rende un compagno ideale per chi cerca l'equilibrio tra funzionalità e stile. Molte celebrità famose e personalità di spicco hanno indossato il Simaster Railmaster, contribuendo a consolidarne la reputazione di icona di stile e simbolo di resistenza. Indossare un modello Simaster Railmaster significa abbracciare un simbolo di durata e stile. Che venga indossato nella vita quotidiana o in occasioni speciali, questo orologio rappresenterà sempre l'equilibrio tra funzionalità e bellezza.